Siamo con Fausto Fulgheso, Assessore del Comune di Laconi. Assessore, come avete accolto questa manifestazione di oggi? L'abbiamo accolta davvero con soddisfazione perché gli artisti sardi hanno voluto organizzare questa serata a seguito dell'incendio drammatico del 7 e dell'8 agosto e che ha creato tantissimi danni nel nostro comune. Ed è il rovescio di un'altra medaglia di solidarietà molto importante che è quella che le centinaia di volontari nello spegnimento degli incendi ma poi gli attestati di solidarietà, le donazioni che hanno subissato davvero i nostri uffici e ci hanno commosso davvero la grande partecipazione. Quindi questo aspetto è il rovescio della medaglia perché questa è anche una serata culturale che appunto agisce sull'aspetto culturale della lotta contro gli incendi. I volontari e tutte le altre attività hanno agito direttamente sullo spegnimento dell'incendio e sull'aiutare le aziende che hanno avuto danni. Stasera culturalmente gli operatori culturali che sono stasera qui ci fanno riflettere con questi spettacoli di quanto è importante la solidarietà, la lotta contro gli incendi e davvero mettendo soprattutto in risalto l'aspetto solidaristico di questa manifestazione. Grazie Assessore, gentilissimo.